L'ipotesi che usciate a primavera, come ha detto Civali? Sono assolutamente cose incampate in aria, infondate. Noi siamo dentro il PD con tutti i piedi, con il cuore, con la testa, con le intenzioni, con i desideri e la nostra battaglia è fatta proprio anche in nome per conto. Ma no, è fatta in nome per conto di valori e di ideali che sono proprio caratteristici della cultura democratica e del Partito Democratico.